Continua a ritmo serrato la campagna elettorale in riva all'Adriatico in vista delle comunali per sfruttare, parafrasando il serfa, l'onda migliore per sedere sullo scranno più alto di Palazzo di Città. Veniamo agli impegni dei quattro candidati a sindaco. Masci, centrodestra e entusiasta, indossa la maglietta con la riconfermata bandiera blu e parla del futuro turistico e balneare di Pescara. Costantini, centrosinistra, ottiene la certificazione di candidato sostenibile e punta sull'ambiente. Pettinari, coalizione civica, prosegue gli incontri onde rode con i cittadini dei quartieri. Domani pomeriggio toccherà ad esempio a Zanni. Al via gli incontri elettorali con i residenti, le associazioni e gli altri cittadini da parte di Gianluca Fusili, candidato sindaco dell'area civica. Ricordiamo che con la nuova Pescara la consigliatura durerà tre anni per la fusione con Montesilvano e Spoltore. 103.000 pescaresi chiamati alle urne si vota l'8 e il 9 giugno non solo per le amministrative ma anche per le europee. Conto alla rovescia dunque si fa sentire la campagna elettorale. I quattro aspiranti sindaci stanno organizzando appuntamenti anche con i big nazionali. Una sfida importante è quella del capoluogo adriatico. Nessuno vuole avere l'ultima spiaggia ma semmai un posto al sole.